Il film riprende la storia di Cocoon terminata con la partenza degli anziani ospiti di una casa di cura verso Antarea, nel lontano pianeta, non esiste dolore o vecchiaia, ma tre delle anziane coppie che si sono trasferite approfittano di una missione degli antareani diretta verso la terra per tornare anche loro. A spingere gli anziani sono motivi diversi, la nostalgia della famiglia, l'ansia di aiutare i bisognosi. A decidere gli antareani è invece la preoccupazione di recuperare i bozzoli che contengono i corpi dei loro, compagni rimasti sul fondo del mare. Mentre gli arzilli vecchietti riassaporano il gusto della vita e dell'avventura, gli alieni devono vedersela con un gruppo di scienziati che ha scoperto uno dei bozzoli e ne fa oggetto di studio senza accorgersi che lo sta danneggiando sottraendone l'energia vitale.